Ehi, salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Windows Defender è la soluzione di protezione sviluppata dalla Microsoft, presente oramai su tutti i computer Windows. È un antivirus gratuito preinstallato in Windows 10 che ti garantisce una buona protezione contro quasi tutte le minacce e non impatta minimamente sulle prestazioni del computer. Negli ultimi giorni però, in tantissimi, mi hanno chiesto di realizzare un video su come disabilitare Windows Defender così da poter installare un antivirus completo come Bitdefender o Casper Sky. Quest'ultimi sono attualmente i migliori antivirus a pagamento del 2021, presenti in circolazione. Sui siti ufficiali le licenze costicchiano un po', ma per fortuna esiste Mr. Key Shop, azienda leader specializzata nella vendita di licenze che da qualche mese ha aggiunto al proprio catalogo numerosi antivirus e tra questi non potevano mancare Bitdefender Total Security 2021 e Casper Sky Total Security. Se desideri acquistare un qualsiasi prodotto su questo sito, inserisci il codice sconto WEB10 per ricevere un ulteriore sconto del 10% sul costo finale della licenza. Detto ciò vediamo finalmente come disabilitare Windows Defender su Windows 10. Il primo passo da compiere è cliccare su Start e digitare nell'apposito box di ricerca gpedit.msc Dopodiché clicca Invio per aprire l'editor di Windows. Adesso segui questo percorso qui. Configurazione computer, modelli amministrativi, componenti di Windows, Microsoft Defender Antivirus. Seleziona la cartella Microsoft Defender Antivirus e sulla destra compariranno diverse voci e sottocartelle. Adesso individua la voce Disabilita Microsoft Defender Antivirus e cliccaci due volte così da aprire una nuova finestra. Metti la spunta su Attivata e clicca su Applica e poi su OK. Dopodiché clicca due volte sulla voce Servizio Antimalware sempre in esecuzione e metti una spunta su Disattivata. Premi poi su Applica per applicare le modifiche e infine premi su OK. Dopo aver eseguito questi passaggi è necessario espandere la cartella Microsoft Defender Antivirus e individuare la sottocartella Protezione in Tempo Reale. Una volta individuata selezionala così da far comparire sulla destra ulteriori voci. Individua la voce Disattiva Protezione in Tempo Reale e cliccaci due volte. Dalla finestra che si apre metti una spunta su Attivata, clicca su Applica e poi su OK. Una volta fatto individua la voce Attiva Monitoraggio Comportamento, cliccaci due volte e metti la spunta su Disattivata. Anche qui premi su Applica e poi su OK per confermare le modifiche. A questo punto è necessario individuare la voce Esegui Monitoraggio delle attività per file e programmi nel computer. Cliccarci due volte e dalla finestra che si apre mettere una spunta su Disattivata. Clicca poi su Applica e infine su OK. Se hai seguito attentamente i passaggi che ti ho indicato finora, avrai disabilitato Windows Defender in modo permanente. Adesso è necessario riavviare il computer per rendere effettive le modifiche. Qualora tu volessi abilitare Windows Defender, devi soltanto seguire gli stessi passaggi selezionando l'opzione Non configurato. Dopodiché riavvia il computer per apportare tutte le modifiche necessarie. Dopodiché riavvia il computerizata. Grazie.